E la Poketubers, new opening del vostro Pokeshiny Allora ragazzi, quest'oggi vi porto all'apertura di 8 pacchetti di X e Y colpi furiosi Fino ad ora, come avete potuto vedere sul mio canale, ho aperto il box Nel canale della community Poké Carsita ho aperto i pacchetti Però erano tutta a merce, chiamiamola così, che mi arrivava da Cargame Invece quest'oggi li ho presi in edicola Quindi con la loro santissima bustina E adesso vi faccio vedere il foglietto dello scambio gioca di settembre 2014 Ho fatto qualche cosa? No, vabbè Allora, davanti abbiamo l'artwork di Lucario Come c'è nello sfondo Poi all'interno troviamo Lucario X Mega Lucario X E sul retro ragazzi, per gli amanti dei fumetti Abbiamo qui l'attesa è finita per la gente di tutti i fan dei Pokémon Finalmente anche in Italia il fumetto Pokémon Nero e bianco Che è in uscita a fine settembre in fumetteria ed edicola Quindi per chi piacciono i fumetti ragazzi a fine settembre Fuggite in edicola Ora iniziamo l'apertura di questi otto pacchetti Quindi speriamo un po' di trovare qualcosa di interessante Speriamo Vediamo un po' Abbiamo Focal nastro Amaura Manutenzione Cabcio Patrat Ivi Screghi Mainun Watchogreverse Ebrilom Raro Pacchetto di Mega Lucario Dopo il pacchetto di Mega Heracross Devo salvare con le forbici Perché è l'unico artwork ragazzi Che io non riesco a salvare manualmente C'è il pesce di Belen Eccolo qua E abbiamo Clefable Energia vegetale Pancham Makuita Drowsy Screghi Belsprut Mienfu Cura totale reverse E l'Andorus Olo Beh Secondo pacchetto No Olo non è male Aspettate Che siamo aggiunti al pacchetto di Mega Heracross E io lo devo assolutamente Salvare con le forbici Aspettate Un momento Che arrivo Sono di nuovo da voi Ecco Veloce e indolore Veloce o veloce Non ci ho messo tanto Ah Ok E abbiamo Stadiolotta Puncham Recupera oggetti Electabuzz Poliwog Plasol Pikachu Slakot Drowsy reverse Tornados Straro Andiamo con Auluccia Anche Auluccia Questa la romana Auluccia Allora Scambio di energia Hitmontop Recupera oggetti Noibat Slakot Patrat Electabuzz Clefairy Tornados Raro Reverse Tarantrum Raro Un altro pacchetto Di Mega Heracross Che non mi interessa Lo ho salvato già Basta Riuscivo a salvarlo manualmente Aspettate Uh uh Yeah Sì Allora questo è un pacchetto Ecco C'è già rimasto dentro il codice Poi c'è già un pacchetto fortunato Vediamo Codiciazzo Abbiamo Gotorita Tyrant Inviato speciale Noibat Slakot Patrat Electabuzz Clefairy Blasica Nolo Reverse Victree Nolo Pacchetto Fantastico Un olo E un olo Reverse Andiamo ancora Con l'uccellaccio Multicolor Ovviamente pacchetto distrutto E abbiamo Allora Ricercatore di fossili Ittmoli Ittmoli Ornella Ornella Panjam Magmar Clefairy Cloncher Pikachu Bespot Traverse Thundarus Raro Penultimo pacchetto Ragazzi Di questa vettura Su otto pacchetti Abbiamo trovato Al momento Solo due olo E un olo Reverse Un po' Scarsetto Come bottino Decisamente Scarsetto Adesso mi comincio Arrabbiata Energia Vigore Clefky Scambio Di energia Gotita Machop Torchic Likitank Eevee Polito Reverse Gotiter Raro Ultimo pacchetto Ragazzi Di Megalocario Speriamo Che almeno Lui Non mi tradisce E certe volte Come avete visto Di tutti i pacchetti Riservano Delle belle Sorprese Speriamo Vediamo Un po' Perché se no Su otto pacchetti Cioè È stato Un pochettino Scarsetto Come apertura Oh E vai Allora Mien Shao Fossil Mascella Ve l'ho detto Che gli ultimi pacchetti Sono quei più fortunati Super recupero Mainum Scraggy Batsprout Camciu Golet Tyrant Reverse Oddio No 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 Megalucario Oh Megalucario X 113 111 La fuori serie No Vabbè Ragazzi L'ultimo pacchetto Non so se 113 113 Qua No Vabbè Ragazzi L'ultima carta Su otto Pacchetti Dove non c'ho trato Praticamente niente C'ho trato solo due Ole Una Allora Verso Ragazzi Megalucario X Fuori serie Che è quella che vale di più La car game E valutata Mi pare Quasi 35 euro Molto più ovviamente Di Mega Era Cross Fuori serie Allora ragazzi Cosa dirvi Io con Mega Lucario Fuori serie Che non riesco Anche a tenerle in mano L'altro po' E vi lascio E spero che l'apertura Vi sia piaciuta Io ormai avevo perso Le speranze Di trovare qualcosa Di buono E vi aspetto Ragazzi Per altre aperture Ciao ciao